Patrono della Chiesa Universale, l'aggiunto, immagina della carità, guida della Sacra Famiglia, uomo del silenzio, virgulto della stirpe di Davide, esempio di carità, obbedienza ed amore incondizionato, il padre, putativo della luce, l'uomo del Fiat, San Giuseppe. Una figura questa che a volte scompare dinanzi alla grandezza del figlio Gesù e della sposa Maria, pilastro della Sacra Famiglia che sorregge il Tempio della Chiesa ma nell'umiltà di una vita rivolta al bene dell'altro. Un falegname, il giovane Giuseppe, che incontra sul proprio cammino la semplice Miriam di Nazareth. Un amore, il loro, che si fa rinuncia di se stessi nella lode e cura continua del verbo fatto uomo. Giuseppe padre, Giuseppe sposo, Giuseppe uomo e lavoratore. Eccezioni queste di un'unica figura che sa abbracciare il grande mistero della fede, l'incarnazione del Dio nel seno di Maria per opera dello Spirito Santo. Un'immagine antica ma sempre attuale di chi si pone al servizio della propria famiglia con amore, sacrificio e dedizione. Piccola luce di una casa in cui risplende la grandezza di Dio. Espressione più autentica della fiducia nel Padre Celeste. Giuseppe, uomo tra gli uomini, che sa soffrire umiliazioni e tormenti, provando anche la grande tribolazione dell'esilio in terra lontana. Lui, Giuseppe, che per il bene supremo della piccola famiglia di Nazareth scappa in Egitto, stravolge il proprio vissuto e sorregge la sposa. Questo è il segreto di una vita felice in famiglia, saper essere l'uno al servizio dell'altro, nell'esperienza dell'amore salvifico di Dio. Giuseppe, perciò, patrono dei padri di famiglia come sublime modello di vigilanza e prudenza, guida della Chiesa Universale. Mani le sue, che hanno accarezzato il piccolo Gesù nella grotta di Betlemme e lavorato insancabilmente per tutta la vita in una piccola e umile bottega lontano dai clamori e dal chiasso del mondo. San Giuseppe, quindi padre e patrono, che ancora oggi sa usare quelle dolci mani per indicare la vera strada, quella che porta al Cristo suo figlio.